Un giorno fuori da casa pensavo che chiamava, stava litigando con qualche persona, faceva che bastardo! E poi c'era di me con lo gatto che era trasluido, se l'ha fottuto non mangiare e il giudizio sarebbe il suo gatto. Che bastardo! Chi c'è? Ed ora la-o sopito! Non ma non mangiare la mia figlia! Dora! Ttt è un topia pinetta inita starche, che cazzo vai! Che cazzo vai tutti? Che cazzo vai tutti? Grade che sono qui! E vai, come si vuole eh! Bravo! Bravo Sabina! Do you know the teachers are mine?